buongiorno buona gente buona domenica questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv di radio center music per buongiorno etv 6 in onda anche tu nel weekend dalle 7 fino alle 9 30 poi la riproposizione delle 13 30 e delle 14 30 durante la settimana anticipiamo come oramai noto partiamo alle 6 e 45 cominciamo come oramai da 17 giorni a questa parte con gli ultimi dati dal fronte ucraino purtroppo la notizia che trovate già in primo piano sui giornali non è bella non da adito a speranze di pace perché anche leopoli quindi verso occidente la russia si muove leopoli sotto attacco raid di notte su poligoni militari e aeroporti quindi su obiettivi come si dice sensibili mosca però aperta all'idea di negoziati a gerusalemme questa è un'ulteriore notizia che potrebbe ieri sera arrivata anche a noi che potrebbe lanciare un nuovo fronte di speranza sul fronte invece nazionale regionale che cosa sta accadendo pedalata candele striscioni per l'ucraina pesaro e ancona dicono no alla guerra manifestazioni in tutte le marche poi il covid perché dopo una quattro cinque giorni nei quali sembrava che il covid avesse rialzato la testa anche grazie a omicron 2 e a omicron 3 abbiamo scoperto questa settimana della presenza di una terza variante della variante omicron i numeri tornano a stabilizzarsi intanto sul fronte ucraino la regione Marche istituisce il comitato di accoglienza ai profughi così come stanno facendo le varie caritas diocesane il carometano un problema che riguarda tante tanti di noi nelle Marche è preponderante l'utilizzo dei mezzi a metano a livello nazionale abbiamo una percentuale molto più alta di veicoli a metano colpiti dal rincaro fino al 150 per cento nel giro di sei mesi distributori che si fermano è inutile non conviene aprire noi abbiamo su questo un servizio ve lo proporremo il meteo però oggi è domenica sta per arrivare una nuova settimana come la vivremo comunicato ufficiale cambia tutto il vortice polare va letteralmente in frantumi non sono proprio dispiaciuto di questo bye bye al freddo anche perché questa mattina attorno alle sei nel capoluogo regionale si registrava meno due si registravano meno due gradi che giornata sarà oggi una giornata anche oggi fredda amiche amici di macerata eccola qua meno uno la minima zero gradi in provincia di fermo e pesaro due gradi la minima sulla zona di ancora insomma anche oggi sarà molto freddo in un contesto di cielo sereno le massime attorno ai nove dieci gradi giusto così lunedì che tempo che fa bello anche lunedì temperature in crescita i valori massimi 13 14 gradi addirittura in provincia di pesaro per esempio ma zero gradi un grado due gradi altrove in particolare più freddo che altrove farà a fermo e macerata i giornali locali quello che trovate oggi in edicola la carta stampata autotrasporto a terra non solo rincari ma scarseggia anche il carburante senza sostegni stop dei tir così è impossibile però programmare i servizi attenzione che il garante avrebbe stoppato per domani lo sciopero dei tir su questo siamo in costante aggiornamento un piano di metano anche qui prima 16 euro ora si sfiorano i 50 il gestore di un distributore racconta gesti paure e commenti dei pochi clienti abbiamo anche registrato aggressioni verbali per chi va a fare metano i distributori chiudono da Cagli bisogna arrivare ad Apecchio o addirittura in Umbria ancora carta stampata questa volta per quanto riguarda le notizie da Ascoli passerella per i ciclisti e giornata di passione per gli automobilisti arriva la Tirreno Adriatico ecco le strade vietate sarà una giornata campale per gli automobilisti la giornata di oggi perché oggi fa la passerella finale la Tirreno Adriatico quali sono i disagi amici e amici di Ascoli ve lo racconteremo tra pochissimo prima fatemi dare un saluto speciale a coloro che ci stanno seguendo attraverso la diretta facebook allora Laila buongiorno Saverio buongiorno buona domenica Marilena eccoci qua a sentire che succede buongiorno a tutti buongiorno Marilena anche io seguo le notizie di fatto con voi sono notizie ahimè alcune molto negative altre invece che danno adito alla speranza allora a proposito di questo torno alle news nazionali attacco aereo su una base militare ucraina vicino al confine polacco si conferma dunque che è verso occidente anche verso occidente che si muove la Russia a Leopoli sotto attacco Leopoli l'avete sentita in questi giorni perché è uno dei punti di arrivo dei profughi che poi da lì vengono accolti dai paesi occidentali siamo veramente verso occidente un attacco così era difficile da prevedere esplosioni appunto a Leopoli secondo però i media israeliani anche su Repubblica così come sul Corriere della Sera c'è questa speranza si dimosca ai negoziati che si tengano però a Gerusalemme l'evento di Repubblica per l'Ucraina e per l'Europa uno dei tanti che sono stati organizzati ieri per esempio il presidente Zelensky ha parlato in collegamento chiaramente virtuale con la piazza di Firenze 349 39 18 169 vado a salutare tra poco rapidamente anche chi ci sta scrivendo attraverso il numero whatsapp anche se non è indicato in sovraimpressione ma il classico numero di buongiorno e tv anche perché durante la domenica e il sabato abbiamo meno tempo per i messaggi come risparmiare in famiglia sulle bollette di luce e gas tra poco ve lo racconto farina zucchero e olio di semi scatta la corsa all'accaparramento il presidente del consiglio Draghi ha detto per il momento non c'è bisogno di andare a prendere d'assalto gli scaffali a fare scorte non siamo ancora nell'economia di guerra certo è uno scenario possibile ma c'è già chi ha cominciato anche dai nostri messaggi ci segnalavano per esempio ieri scaffali di pasta semi vuoti allo spazio Conad della baraccola di Ancona è un effetto sì la corsa a fare un pochino di di cambusa come si diceva ai miei tempi da scout 349 39 18 169 tra poco la guida rapida su come risparmiare in famiglia su bollette di luce e gas intanto un consiglio ve l'abbiamo dato già in queste settimane cioè basta sul fronte del riscaldamento tenere a 18 gradi certo non è caldo la casa non ti accoglie con quel classico tepore con quell'abbraccio caloroso però perlomeno è il punto di caduta giusto tra una casa calda ma non troppo e poter risparmiare così rispetto agli aumenti intanto cosa succede sul fronte dei distributori del metano che chiudono e poi l'annuncio su domani il rischio sciopero dei tir è un prezzo che non stabilisce neanche un margine di guadagno e a prezzo di costo nonostante la cifra importante implica che praticamente non è conveniente per nessuno andare a metano perché a questo prezzo conviene andare a benzina è così che diversi distributori dell'Anconetano hanno deciso loro malgrado di chiudere 5 euro al chilo per il metano un prezzo fuori mercato dal quale per giunta non ci si ricava alcun guadagno racconta Mirko Carletti gestore dell'impianto di Rocca Priora a Falconara chiuso perché non gli conviene neanche sostenere le spese di riparazione di un guasto visti i profitti quasi del tutto annullati siamo chiusi per guasto appunto perché comunque sia la riparazione avrebbe un costo di una certa rilevanza e con le prospettive di guadagno in caso di riapertura a 5 euro al chilo sarebbe comunque problematico riaprire l'attività Escalation del costo del gas, iniziato già nell'ultimo trimestre del 2021 guerra in Ucraina, sanzioni alla Russia hanno spinto ancora più in alto i prezzi tranne che del GPL, sono diminuiti i clienti, attenti ora alla migliore offerta, via via anche i tir il settore dell'autotrasporto sta ragionando sul fermo alcuni mezzi pesanti, quelli che possono, tornano al diesel pur di viaggiare da ottobre quando è cominciato il rincaro erano arrivati comunque sia un calo del 70% delle vendite la diversificazione anche con una forbice molto ampia dei prezzi da un distributore all'altro ha fatto sì che giustamente le persone se facessero un paio di conti in sacoccia andassero dove costasse di meno perché ci sono anche distributori di metano più convenienti e che hanno avuto riscontro anche di nuova clientela 2 euro al chilo e il prezzo nei distributori nella zona industriale sud di Ancona è a Osimo Stazione leggermente meno di benzina e gasolio una forbice del listino dovuta alle tempistiche in cui si sono firmati i contratti di fornitura ci sono di mezzo i classici contratti come ci può avere una persona in casa con le varie compagnie che rifornisce il metano noi probabilmente grazie anche al titolare riusciamo ad ottenere un prezzo diciamo buono e quindi a mantenerci un attimo con prezzi al pubblico più abbordabili sinceramente lavoriamo più o meno sempre uguale io quello che spero è che si trovi un sistema per frenare le speculazioni che stanno arrivando a livello internazionale anche perché non so se è un'informazione corretta mi è arrivata notizia che praticamente solo qui in Italia c'è una speculazione di questo livello questo purtroppo la parola chiave speculazione è stata utilizzata anche ieri direttamente dal ministro della transizione ecologica il nostro ministro italiano conferma appunto che non c'è giustificazione in questo momento rispetto al caro metano al caro benzina anche perché in questo momento non mancano le materie prime c'è il rischio che mancheranno quando come succede sempre nel mercato quando hai dieci pezzi e da dieci ne hai cinque se da dieci passi a cinque e ci sono sempre dieci persone che li vogliono quei cinque li puoi mettere più alti di prezzo perché c'è la domanda c'è e scarseggia la materia prima ma in questo caso no è speculazione quella che stiamo vivendo in questo momento caro benzina attenzione lo anticipavo poco fa dalla commissione di garanzia stop allo sciopero dei trasporti che è stato annunciato per domani per via del mancato preavviso e predeterminazione della durata dell'astensione quindi domani sì rispetto a chi mi chiede sarebbe previsto lo sciopero dei tir con conseguenza di problemi legati all'approvvigionamento anche di materie prime ma in questo momento il paventato stop dell'autotrasporto italiano attenzione proclamato da lunedì 14 e quindi da domani dalle aziende di autotrasporto a livello nazionale per causa di forza maggiore è stato bocciato dalla commissione di garanzia per lo sciopero un appunto da tenere aggiornato carlabo quindi si fermeranno non si fermeranno domani tir lo scopriremo buongiorno maurizio ma dove andremo a finire non lo so luisita grazie luisita principi davvero è uno dei momenti più bui della nostra storia recente forse il peggiore che siamo chiamati a raccontare in 16 anni di buongiorno e tv e abbiamo visto terremoti abbiamo visto nevicate durante 14 giorni abbiamo visto il covid per due anni adesso la guerra paolo berardi buongiorno franco cantarini buongiorno buona domenica sereno 4 gradi proviamoci allora a guardare la bellezza allunghiamo lo sguardo sulle webcam della nostra regione ne abbiamo bisogno più che mai poi andiamo ai giornali buongiorno porto san giorgio buongiorno fermo buongiorno montefortino guardate che meraviglia questa webcam san benedetto con le palme in attesa dell'estate arriverà l'estate si spaccherà questo fronte freddo pare di sì guardate urbino che meraviglia con il sole che fa capolino su piazza risorgimento torniamo ora a leopoli sotto attacco ride nella notte purtroppo è confermato su poligoni militari e aeroporti l'attacco più a ovest da parte della russia mosca sarebbe comunque aperta all'idea di negoziati a gerusalemme sarà la volta buona non lo sappiamo a leopoli nel bastione ovest dove non si dorme più nessuna resa leopoli era il punto di arrivo di approdo dei profughi adesso viene bombardata anche quella zona maxim vent'anni soldato di leva morto per putin la madre mi scrisse vado a un'esercitazione questa è l'altra faccia della russia ci scrivono anche dalla russia degli italiani in russia e criticano questo programma criticano i programmi italiani le trasmissioni italiane dicendo che stiamo raccontando una falsa verità andiamolo a chiedere a questa mamma che ha sentito il suo figlio per l'ultima volta figlio soldato russo dire mamma mi hanno detto che devo andare a fare un'esercitazione in ucraina e invece sono partiti questi ragazzi per la guerra senza in parte senza che lo sapessero quanto dovrebbe costare la benzina in italia la tassa degli opportunisti che pesa per il 5 per cento gli aumenti sono immotivati è quello che vi dicevo poco fa le parole del ministro cingolani che dice qui c'è una speculazione non manca non manca la benzina si tratta di un approfittarsi del mercato pillole di iodio le scorte regione per regione il piano del governo in caso di emergenza nucleare su questo tema però più volte ho ricordato che non c'è un'emergenza che non bisogna prendere lo iodio perché intanto così ci segnalano ancora gli scaffali semivuoti sì sì l'avevo letto anche nei giorni scorsi grazie per questa ulteriore segnalazione in alcuni supermercati marchigiani mancano già le scorte di cibo pillole di iodio dicevo non conviene assolutamente per il bene della propria tiroide cominciare a prendere queste pillole mi raccomando non facciamo il fai da te Zelensky che spiega il sindaco di Melitopol rapito e vivo ma lo stanno torturando un altro elemento che è venuto fuori da queste ultime notizie sarebbe sotto tortura perché i russi vorrebbero che lui desse una annessione simbolica proprio alla causa russa i giornali va i giornali la carta stampata quello che raccontano le vostre notizie andremo a casa quasi di tutte cominciamo da Ascoli e San Benedetto famiglie con l'acqua alla gola caro bollette il carburante alle stelle l'assessore ai servizi sociali Bruni lancia l'allarme la reingostanza è un fondo da 60.000 euro ma non basta circoli ricreativi verso la chiusura ragazzi è tutto vero sembra incredibile i supermercati che si svuotano i circoli ricreativi che chiudono i distributori di benzina di metano che chiudono le aziende che o abbassano il termosifone o chiudono in maniera selettiva Buckel al novantesimo delirio Ascoli taglio centrale si parla giustamente anche di cose più leggere e allora prova super dei bianconeri a Ferrara 2 a 1 un successo dei più gustosi quello arrivato al novantesimo che permette una vittoria davvero significativa potrebbe essere l'inizio di un sogno quello della promozione danni all'auto di Bagalini Calvario dopo l'elezione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia denuncia ennesimo atto teppistico ma io non mollo prima l'auto rigata poi le scritte altre notizie da Ascoli ci spostiamo ad Ancona intanto saluto Marisa saluto Francesca saluto Carla saluto Luisita Paolo Laila tutti e tutti quelli che ci stanno seguendo prove generali di Movida Soft è l'apertura del giornale del vostro giornale per Ancona e provincia piazza del Papa residenti soddisfatti finalmente si dorme gli operatori dicono però così perderemo posti di lavoro al piano girano ubriachi già alle 11 del mattino bene il giro di vite ma servono i controlli questo è il feedback legato alla decisione del comune di Ancona di fare una stretta rispetto al consumo di alcolici in centro gratte vinci da 200 mila euro ci pago il mutuo racconta l'operaio fortunato che si è confessato a volte i vincitori di queste cose qua di questi giochi qua rimangono all'oscuro non si sa chi sia qui invece ci ha messo la faccia e ha detto anche ci pagherò il mutuo quindi è andato diciamo a buon fine questo successo Sergio Picciafuoco stroncato da infarto mentre lavava i piatti succede a Castelfidardo Ucraina spacca la testa al fidanzato filo russo incredibile ma vero lite per la guerra risolta con una bottigliata in via Giordano Bruno interviene la polizia questa storia l'abbiamo anche raccontata sul nostro sito tvmarche.it c'è proprio una pagina dedicata alla cronaca fiamme dal frigo incendio in una palazzina a Monte Marciano ma tutti salvi gli occupanti per fortuna e poi eccola qua lite in appartamento lei ucraina lui russo litigano lei prende a bottigliate lui Ancona questo è un elemento che abbiamo raccontato poco fa ordinanza anti Movida del Comune ma gli operatori di Piazza del Papa protestano perderemo affari Movida molesta in centro ad Ancona il Comune corre ai ripari con un'ordinanza sicurezza ma gli operatori di Piazza del Papa non ci stanno il provvedimento della discordia è il divieto di asporto di bevande alcoliche a partire dalla mezzanotte non è questa spiega confartigianato la soluzione all'ordine pubblico nella zona della piazza così si danneggiano le attività e si sposta il problema senza risolverlo parliamo di ben 11 imprese di somministrazione più un'attività di ristorazione che danno da lavorare circa 80 forse più di 80 dipendenti quindi parliamo di 80 famiglie 80 stipendi cioè parliamo comunque di micro indotto di tessuto imprenditoriale del territorio di gente che investe nel territorio che mantiene risorse nel territorio che si va a penalizzare cercando in questo modo solo ed esclusivamente di spostare il problema da un'altra parte non possiamo pagare noi per una criticità esterna scrivono gli operatori non siamo capri e spiatori queste limitazioni conclude confartigianato che ha chiesto un incontro al sindaco per chiarire la questione arrivano tra l'altro in un momento già molto critico per molte attività che a causa di questo ulteriore calo di fatturato potrebbero non sopravvivere alla prossima stagione le imprese vengono da due anni di pandemia poi ci troviamo a fare i conti con il rincaro enorme delle materie prime dell'energia elettrica, di tutto quello che è il materiale di consumo che le imprese utilizzano giornalmente di conseguenza ci sembra un provvedimento che in questo momento sia assolutamente fuori da ogni tipo di logica limitare nella somministrazione le attività economiche del centro città che fanno l'intrattenimento dalle 24 in avanti significa tagliare quella fetta di fatturato delle imprese che comporterebbe un colpo durissimo per le attività economiche tanto da non permettere l'attività stessa e di poter sussistere questo l'appello di confartigianato in presa Ancona Pesaro Urbino sulla movida molesta e la decisione del comune di prendere un provvedimento con il divieto in certe fasce orarie di consumo di alcolici 349 39 18 169 torno ai giornali, alla carta stampata ricordo oggi amiche e amici di Ascoli la passerella per i ciclisti e però anche la giornata di passione per gli automobilziti dice il sito, un piccolo refuso automobilisti arriva la Tiran Adriatico ecco le strade vietate ci arrivo tra un secondo perché ricordo intanto per domani era stato annunciato è previsto uno sciopero dei trasporti sciopero dell'autotrasporto e non trasporti nel senso gli autobus ma autotrasporto italiano i tir che si dovrebbero bloccare l'informativa inviata a Trasporto Unito FIAP Ministeri delle Infrastrutture e Interno lamenta il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni quindi in base a questo domani potrebbe non esserci questo blocco ma vi terremo aggiornati oggi sì che c'è lo sciopero giornata campale il blocco del traffico in certi punti ma motivato dallo sport sarà una giornata campale per gli automobilisti con l'arrivo della tappa finale della 57esima edizione della Tirreno Adriatico quest'anno non più a cronometro come da tradizione ma in linea e toccherà molte più zone della città e dei dintorni comportando la chiusura per buona parte di oggi del centro di San Benedetto e cosa molto importante anche per chi non sia di quelle parti ma che voglia passare da quelle parti blocco della Statale 16 in zona Ischia di Grottamare fino all'incrozzo con la salaria cittadino avvissato mezzo salvato torno rapidamente alla notizia alle notizie nazionali economia di guerra in Italia accaparramenti psicosi speculazioni il caso benzina e con il default russo rischiamo 19 miliardi di introiti attenzione perché davvero se crolla l'economia russa se c'è il cosiddetto default anche l'Europa anche l'Italia avrebbero gravissime conseguenze Macron e Scholz che accusano Putin mente ma Zelensky vede uno spiraglio ieri c'è stato su questo devo dire un già un bifrontismo dell'informazione perché se da un lato Zelensky ha detto Putin e i russi hanno cambiato tono pare che siano pronti al dialogo possibile l'incontro in Israele per parlare di pace ma sempre nelle stesse ore Macron e Scholz erano a colloquio telefonico un'ora e mezzo con Putin che ha ribadito non mi voglio fermare che cosa sta succedendo se non ci capiscono neanche loro punto di domanda allora come fare a risparmiare rapidissimamente ve l'avevo promesso c'è la guerra risparmiamo energia ma come elettricità e gas naturale erano già ai massimi storici quando è scoppiata la guerra in Ucraina ora la situazione potrebbe peggiorare dalle valvole termostatiche per appunto evitare sprechi ai pannelli termoriflettenti ognuno di noi può fare la sua parte per consumare di meno e risparmiare sono piccoli piccoli stratagemmi che però possono fare la differenza in termini di qualche decina di euro al mese e male non è allora dice il giornale cosa posso fare nell'immediato per consumare meno energia partiamo da un assunto il maggior dispendio di energia è dovuto al riscaldamento della casa prima regola risparmiare e riscaldare però altrettanto il giusto 19-20 gradi è la temperatura perfetta un ottimo modo per tenere la situazione sotto controllo è quello di mettere le valvole termostatiche magari non avete neanche sentito parlare io per esempio se ben regolate le saluto intanto Oriana le valvole termostatiche garantiscono una temperatura costante e nelle stanze poco mai frequentate possono essere anche chiuse in modo che l'unità non si scaldi affatto oppure utilizzare caldaie collegate con un termostato ma le valvole termostatiche in quelle stanze dove di solito non si sta oppure si sta molto meno possono essere uno strumento ancora accendiamo i termosifoni nelle ore più fredde la sera schermiamo le finestre chiudendo gli scuri o abbassando le tapparelle perché questo evita la dispersione del calore sembra una banalità ma tenere chiuso quando inizia a fare buio piuttosto che lasciare aperta la finestra è utile inoltre chi ha una caldaia per la produzione di acqua calda dovrebbe anche passarci due volte pensarci due volte prima di fare un bagno nella vasca perché oltre a consumare più acqua circa il triplo rispetto a una doccia di tre minuti consuma molto più gas per riscaldarla quindi terzo consiglio e qui mi fermo evitare il bagno fare la doccia questo è un piccolo bouquet di idee da condividere insieme mi devo fermare tra poco però torniamo con l'informazione Alba da Sant'Elpidio che il sole sia con voi ne avevamo tanto bisogno grazie carissimo Saverio stringo su questa tua immagine meravigliosa l'Alba a Sant'Elpidio teniamoci stretta la bellezza che ci circonda voglio salutarvi con la gazzetta dello sport se faccio a tempo perché ieri è stata una giornata di campionato importante con il Milan che riallunga in classifica va più cinque e sogna Calulu piega l'Empoli a tra poco state con noi grazie